Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Tutto Fare e oggi facciamo la terza puntata di come costruire una canna da pesca in bambù. Eravamo rimasti al punto che doveva essere raddrizzata, ebbene sì, l'altra raddrizzandola con questo arnese malefico qui si è scavressata, come si dice qua in Veneto, si è spezzata e quindi ho dovuto ricorrere a una nuova canna di bambù. L'ho trovata già secca, poi ho avuto fortuna e grazie a questo phon, alla potenza minima di 350 gradi, sono riuscito a raddrizzare i punti che erano storti. Potete utilizzare anche una fiamma, ma state attenti perché risciate di carbonizzare tutto. In questo pacchettino poi, non vi faccio l'unboxing perché l'ho quasi montato, è arrivato anche il manico della nostra canna da pesca, che sarà frutto della quarta puntata della quarta puntata. La quarta puntata riguarderà il montaggio della nostra canna, ovvero impugnatura e anellatura. Vediamo qui l'impugnatura ordinata da Amazon. Qui ho preparato i due spessori in nastro carta per far calzare il porta molinello e qui c'è il nostro puntalino con il suo romino estetico. Ho provato, funziona tutto alla meraviglia, veramente viene fuori una roba fighissima. E poi vedremo anche, nella quarta puntata la canna funzionalmente sarà completata. Nella quinta puntata però vedremo come aggiungere un decoro. Farò un piccolo foglio, un piccolo adesivo con il logo del tuttofare e magari il nome della canna, che dovete aiutarmi a scegliere. In questo caso è una 190 cm, quindi ci sarà il numero 190. Pensavo più a Trout 190 oppure S190, non so, un nome cattivo possiamo dire, molto attraente. Sicuramente verrà fuori bella e con nei suoi nove anelli sarà veramente molto potente e affidabile. Il cimino non è sottile come l'altro, però garantisce comunque una buona flessibilità alla canna. Sarà leggermente più rigidina, ma forse viene meglio dell'altra, perché così ci consente di lanciare anche qualche grammo in più. L'altra sarebbe stata a un massimo 4 grammi e quindi capite già che nella spinning alla trotta siamo già un po' al limite se non pratichiamo a trottare. Con questa raggiungeremo anche i 6-7 grammi volentieri. Quindi questa è la canna, signori. Qui stiamo facendo i lavori e aspetto con ansia che arrivino gli anelli. Così possiamo fare il montaggio pure di quelli. L'anello interno qui si adatta proprio al millimetro con questo, viene proprio un saldo e ovviamente ci va un goccio di colla, però aspetto a fare la quarta puntata ovviamente per gli anelli e anche perché devo comprarmi la colla nuova. Quella di prima che avevo si è seccata e quindi sarò costretto ad acquistarne della nuova, perché voglio utilizzare della colla di tipo bicomponente eposilico. Non voglio utilizzare porcherie tipo atta che ci hanno acrilato perché quelle lì sono colle rigide e quindi alla prima flessione della canna mi esplode tutto. Spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like e soprattutto attendete con ansia la quarta puntata, che sarà la puntata decisiva, perché con la quarta puntata la canna sarà completata. Oppure potremo fare una cosa di un altro tipo, la quarta puntata la dedichiamo al montaggio della impugnatura, la quinta puntata la dedichiamo agli anelli, la sesta puntata alla grafica. Possiamo fare anche così, quindi attendete con ansia le nuove puntate. Vi aspetto, mettete like, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!